Ok signori, siamo arrivati a casa Siamo tornati sul nostro amato pianeta Perfetto, iniziamo ad avvicinarci alla base Allora, se non ricordo male, la base è abbastanza lontana in linea d'aria Quindi innanzitutto allineiamoci alla base e poi scendiamo in atmosfera Scenderemo per primi noi, ovviamente essendo quelli con più manovrabilità Ha ricevuto Non semini ovviamente la Titan, voi seguiteci lei, ovviamente ufficiale di rotta, non semini la Titan Perfetto, ufficiale di rotta, sia attento a non distanziarsi troppo E' un terrazzo molto difficile, no? Sì, altro meno raggiungere l'alto in sfera Esatto Per questo ho detto prima, sincronizziamoci alle linee d'aria, poi scendiamo Signor Lord, l'è mancato Soteria? Eh, abbastanza Anche il poter lavorare senza pause a Castano Quello sicuramente però, il lavoro su moro si andava fatto Ahimè qualcuno lo doveva fare Beh, sicuramente considerando quello che abbiamo trovato frutterà svariati crediti spaziali alla compagnia Sì Per questo motivo non è rischioso lasciare la base in difesa? No, vabbè, le difese sono state lasciate attivate E poi la basta centinaia di milioni di scudo Grazie all'ultimo aggiornamento Perfetto signori, siamo in avvicinamento Poi non inseriamo la discesa e poi l'alterraggio Interrogativo, Karberos Sì Dobbiamo depositare la testa della Titan? Sì, esatto, stavo per dirlo Prima di atterrare ovviamente voi dovete Prima di attraccarvi in realtà dovete depositare la testa Bene ricevuto, procediamo Si faccia aiutare ovviamente da un suo sottoposto Quando vuole può scendere Ok, Titan in modalità risparmio energetico Perfetto Sì ovviamente anche lei, ufficiale di rotta, ha spento i propulsori eccetera Giusto ha messo i sistemi in... perfetto Eccoci tornati alla base Bangella finalmente Benissimo, allora Ma signor L'Alta L'Alto Sono io o manca qualcosa? Va completata un'ala della base No, 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 a parte quello signori La... la Normandy? Ah la Normandy, certo Alla fine l'ho portata via Certo, l'ha portata via E purtroppo non si è riusciti a salutarla Esatto, non abbiamo avuto neanche il tempo di fare l'ultima... Qui ormai si fa tutto di fretta Avete ragione, signori Purtroppo la Normandy, sì Avevo dato già ordine comunque di portarla via Ehm... niente Sì, però è che l'ha portata via Mentre noi eravamo dall'altra parte Sì esatto A lavorare Eh... la rivedremo prima o poi Che sono sicuro Sicuramente, speriamo Speriamo Sarà un'ottima nave museo per quello che ha fatto Comunque... Sicuramente sarà utile per qualcosa Sì no, ho dato ordine tra l'altro Che nessuno al di là del nostro gruppo Della nostra divisione può utilizzarla Cioè solo noi potremmo utilizzarla Nel caso ci servisse Ma per ora rimane nel museo Dalle navi storiche dell'LSC Quindi la lasciamo a riposare Se lo merita sicuramente come nave Allora, dato che questo pianeta C'è ancora abbastanza ignoto Che ne dite di andare in esplorazione? Perfetto Perfetto Allora, se lei signor Lord è d'accordo Direi che possiamo udirci in due squadre Una squadra terrestre E una squadra appunto Che utilizzerai caccia Anashim Per fare la ricognizione Quindi di aviazione Allora, lei è Procton caccia E io è l'ingegnere terrestre Molto bene Va bene Non abbiamo le competenze Per, a virgolette, pilotare dei caccia Beh sì, diciamo che Io e Procton siamo più indicati Per le scorse volte Bene signori, ho detto questo Direi che possiamo partire Ci teniamo in contatto Su un canale radio Appunto privato Va bene, d'accordo Va bene Buon lavoro Buon lavoro Anche a voi, grazie Perfetto Possiamo andare Check completo Batterie funzionanti Spuro funzionante Ok, per adesso Accendiamo Gli anabaglianti Sì E partiamo Direzione? Allora Direzione Niente Dobbiamo soltanto andare un attimo In espressione Mi riceve Troviamo giacimenti E nel caso So che su questo pianeta Ci sono Degli avamposti Vediamo un attimo Il capitano Il capitano Mancava un po' L'atmosfera Tranquilla Di soteria Senza Eh sì Speri provvise Questa zona Sembra abbastanza Scarsa di materiali Sì Vedo anch'io E Tra l'altro Pare Questo pianeta Non abbia acqua Non ha ghiaccio Non ha Abbiamo qualche giacimento Ma più che altro Si tratta di Agromerati di superficie Infatti Signore Sì signore Cosa dobbiamo fare? Andare A vedere Quella Traded Tower E Planetary Trade Station Che ci sono A 10 km da qua Ho ricevuto Imposto una rotta Ok Che dovrebbero essere A nostra destra Esatto Io ovviamente Non ho portato Come armi C'è una Qualcuna Sul Ma io Ho un fucile Di Ho un fucile Standard Ah no no Ok ok C'è un fucile Qua tranquillo Con caricatori Perfetto Ma boh Andiamo Vabbè Avviso un attimo Gaster Capitano Gaster Mi dia un secondo Magari aumento Il raggio Di trasmissione Vada Capitano Gaster Mi riceve Un po' riportata Sì sono Oltre 50 km Dovremmo Dovremmo creare Una Rete di Ralei Per il pianeta Esatto Esatto Di ripetitori Radio Avevo un progetto Simile Una volta Diciamo All'accademia Ho fatto un Come tesina Direttore mi riceve Ah eccolo Sì la ricevo Voi ci ricevete? Eh ci ho dissi Affermativo Vi riceviamo Allora Io e L'ingegnere Morgan Siamo arrivati A una struttura Indaghiamo Recevuto Noi stiamo Solvolando il pianeta Abbiamo trovato Alcune stazioni Di scambio Che sembrano Abitate E anche Una stazione Per la vendita Di navette D'accordo Probabilmente Anche noi Ci siamo imbattuti In una di Queste stazioni Ricevuto Vediamo Aggiornati Quindi sì Avevo un progetto Simile Che ho fatto All'università All'accademia Ok Riguarda Alla possibilità Di spiegare Un campo Di 50 Relais A guida Autonoma Buono Solo che Diciamo Il progetto All'epoca Venne ritenuto Un pochettino Troppo Azzardato Basterebbe Anche solo A metà Di quel progetto Cioè avere Magari Il sistema Di guida Autonoma Ma adesso Con le nuove Tecnologie Potrebbe benissimo Essere Fattibile Ok Beh lo potremmo Mettere Vabbè Allora Magari Ci mettiamo Su La testa E vediamo La fattibilità Sì Più che altro Andrebbe creato Un reticolo Di coordinate Per i punti Di atterraggio Ok Ma queste compagnie Sono abilitate A vendere Su questo Veneto Allora È la stessa cosa Che ci siamo chiesti Su Moros Sì Nel senso Che i sistemi Non sono Prerogativa Va solo Dalle destre Potrebbero essere Anche compagnie Affiliate A noi Con cui Facciamo scambi Capito È vero Che siamo Nello Sì Una zona Dove ci siamo Solo noi Ma non è Che abbiamo Prerogativa Nello spazio Per possedere Pianeti O sistemi Non siamo Dittatori Spaziali Siamo Compagnie Sembra interessante Permette di Uno dei potenziamenti Permette di Ricaricare la tuta Con l'energia solare Ah ok Vai Qua vendono armi Interessante Hanno dei fucili A un prezzo Molto vantaggioso Beh Anche munizioni Di una certa tipologia Sì Esatto Esatto Niente La base È tutta qua Praticamente Sì È una piccola mensa Molto interessante Queste Queste modifiche Per la tuta Eh signore C'è un secondo piano Ah sì C'è una scala È vero Non ci ho fatto caso Anche se Sembrano più Alloggi e servizi genici C'è un terzo piano Anche Mi sembrano Alloggi e servizi genici Alloggi Perché gli alloggi Forse sono scoprati C'è un quarto piano C'è un quarto piano C'è anche qua Alloggi Ok Vedo Qua invece c'è una sala meeting Signore Signore Dica mi dica C'è un Un cornetto abbandonato Sopra il tavolo E sembra immacolato Un cornetto abbandonato Io Io Non mazzarderei A provarlo Perché Non si sa da quanto E qua Quel cornetto Se avesse voci in capitolo Potrebbe anche raccontare La storia del pianeta E questo è anche vero Eh Beh Vendono il L'uranio Anche a prezzi Abbastanza Competitivi Hanno 87 testate nucleari Ah Cioè vendono testate nucleari No vabbè Io vi allontanerei Signore Io Metterei fuori bando Questa Ma se va su Prezzo per unità E vede Quella più costosa Vede che C'è Kingsworld Nuclear charge Ecco Quella è una testata nucleare Kingsworld Sì esatto 38 milioni 87 tra l'altro Ne hanno Eh questa cosa qua Probabilmente Va bandita No anche perché Non so se sai Kingsworld È l'ultimo Sì so cos'è Kingsworld È È Attualmente L'unico Kingsworld Che l'LSCA È montato Sulla nave ammiraglia Ecco E che vi fa pensare Perché Una stazione In mezzo al nulla Ha 87 munizioni Per un'arma Del genere Eh Io È bello il mercato nero Eh io Presumo che questa stazione qua Non sia Bisogna indagare Vuole controllare L'altra C'è una torre Qua a due chilometri Sì Andiamo a controllare Anche quella Ecco Sembra Molto meno Allora Dato che non ho voglia Di fare la scala Tra i sui modalità Ok Ok sono entrato Eh anche qua Kingsworld Deve essere la stessa Altre 40 86 Cariche Per il 67 Per l'Iperion 30 pezzi Fatman Per il mortale Ma Signori Questa è un'armeria Hanno 87 pezzi Dello Starfall Ma lo Starfall È un missile Interplanetario Non penso Siano qua Fisicamente Forse sono in un magazzino centrale Che poi arrivano A un autoordinato Perché tenere qua È un rischio Per la sicurezza Assurdo Qua si rischia Un 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 Devo sentire Il comando E Se scopro Che c'è roba abusiva Facciamo sparire A 20 km da qua Viene segnato Un hangar E a 33 km Una piccola città Eeeh Vai Andiamo in esplorazione Va Visto Però dobbiamo decidere La piccola città E l'hangar Sono in due direzioni Completamente diverse Andrei all'hangar Io Va bene Questo sembra ghiaccio Sembra Esatto Hai capito I nostri amici Dell'hangar Eh Sono trovati Il punto Strategico Sì qua C'è l'entrata Stessi upgrade Per la tuta Allora Che roba Che posso fare E vedere E vedere Di smerigliare Qua E vedere Ah Non si può Niente Hanno un campo Che non permette L'avvio Dei nostri strumenti Guardi Se vuole Posso un po' Giocherellare Con Con No Non faccia nulla Non faccia nulla Non vorrei Che magari Possero dei Se O ci fosse Un allarme Che Manda un segnale Di Di Giacchieraggio Se vuole Posso Posso Mandare La loro Stazione In modalità Risparmio Energetico Così in modo Che Come se I reattori Avessero finito Il carburante Ok Lei può capire Quanto carburante C'è Nel Sì Vedere Quanto carburante C'è Se ce n'è poco Allora Potremmo tentare L'azzardo Di mandare La base In risparmio E vedere Un attimo 20 unità Ma non sono neanche tante Sono molto poche Eh Ma sì Dai L'autorità Un minutino Cheremo di coprire Questa cosa Con un'anomalia O Perché se vengono A sapere Poi Dal Dal QG Che io Permetto Di fare Certe cose Ah Questa rimane Fra me Lei Assolutamente Signore Non deve Saperlo Nessuno Nemmeno Dal nostro Grupo Ok Campo di Protezione Rimosso Perfetto Adesso Io vado Una Qua Ecco qua Eh niente E' vuoto E' vuoto Ok possiamo Facciamo Anzi facciamo una cosa Mi muovo L'uranio Dal loro Sistema Così Ci crederanno Possiamo Andarcene Perfetto A questo punto Direi Niente Rientriamo Rientriamo La base Anche che Non so quanto tempo Ci metteranno A A tornare Esatto Vabbè ma loro qui caccia Non ci mettono No no Intendo i proprietari Di questa base Ah i proprietari Serve molto Sconveniente Se Allora Allontaniamoci Ma non dovrebbero Tornare nell'immediato Però Mai Signor lad mi riceve Si La ricevo La ricevo Capitano Noi stiamo rientrando Alla base Voi a che punto Siete E abbiamo Feito l'espezione Nell'altra parte Del pianeta Stiamo cercando ancora Ma se volete Possiamo tornare Eh direi che Sì Tornate pure Ci trovi Tanto arrivate Prima voi Lì c'è Vodo Mi metto subito in viaggio Io Io voglio sapere Cosa ha fatto Compa Questo rover Prima di che Ce l'andassi Dove aver toccato Qualcosa Perché ha dovuto Bypassare Alcuni Alcuni sistemi Perché non riusciva A A manovrarlo Cioè Va meglio in retromarcia Cioè Ma che diamine Mi ha toccato Perfetto Ci siamo Vabbè Allora Capitano Siamo rientrati Alla base Potete Entrare Nel nostro canale Recevuto Signor lord Ecco Gini morgan Signori Allora Bentornati Bentornati anche voi Abbiamo fatto Un bel giretto Abbiamo messo Un paio di GPS Giacimenti Giacimenti Di Spalto E ferro No Nickel Nickel Abbiamo trovato Un po' di giacimenti Abbiamo trovato Poi due Due van posti Sì L'hangar Perché da noi No Davetti No da noi c'era La possibilità Sembrava appunto Un punto Per scambiare Non solo materiali Ma anche Navi Comunque E invece Dalla Dall'altra parte Del pianeta Siamo andati proprio Alla parte opposta Rispetto a dove c'è La Magellan C'è un'altra Torre Un'altra Stazione Della stessa Ok E nella piccola città Che vedo a 20 km Da qua La Little City Noi non siamo andati Little City ci siamo stati E se non ricordo male Praticamente è la stessa cosa Cioè sempre un posto di abitato Solo che ha un nome diverso Ci sono anche un paio Di The Wondering Merchant In aria Però non sono Minacce belle Che mi scusi Considerevoli Sì ok Infatti da adesso Devo un attimo Chiedere alla compagnia Sono Quelli che hanno Praticamente Queste strutture Insomma Che hanno Queste strutture Perché Non so se avete visto Cosa vendono Sì Vendono di tutto Anche a un prezzo Abbastanza Abbastanza concorrenziale Al di là del prezzo Ma non so se vi siete Resi conto Di cosa vendono E non mancano le munizioni Ecco Sì esatto Ma anche i droni da difesa Avendo anche i droni da difesa Se avete visto che munizioni hanno Signori Cioè questi vendono testate nucleari Da noi No Le nucleari non le abbiamo viste Non abbiamo visto Le testate del Kingsworld Abbiamo visto diversi tipi di testate Roba veramente grossa Devo un attimo capire Perché Sono robe che non è che si vedono Tutti i giorni in giro Anche perché Non tutti possono Avere quel tipo di Munizioni Allora guardi Io le dico Dal punto di vista bellico Nell'utilizzare Quelle armi Non ho visto Né stazioni Né veicoli In grado Di In grado Di utilizzare Quelle armi Però sicuramente Sì il fatto che Abbiano a disposizione Queste risorse Sicuramente indica Che siano comunque Abbastanza organizzati E magari hanno anche Altre navi Eh ma bisogna capire Perché comunque Sull'utilizzo Di determinati tipi di navi Le colonie centrali Hanno comunque Un vademecum Su cosa si può utilizzare E cosa non si può utilizzare È vero che qua siamo lontani Dalla giurisdizione Del centro Della nostra galassia Ma comunque La cosa Mi mette Dei punti di domanda Nel senso Che su un pianeta In un sistema Così siamo lontani Diciamo dal centro colonizzato Vedere questo tipo di armi No ma appunto è Sapendo anche Chi sono i pirati Vicino Nel senso Il tutto e se c'è offerta Siamo praticamente sicuri Di chi sia la domanda Esattamente Esatto Quindi la cosa Adesso Parlavo anche Con il disegnere Morgan È capire Adesso Proverò a interrogare Anche al quartiere generale Cosa ne sanno Di questi avamposti E capire Se è roba Che È tranquilla Nel senso che Conosciamo noi Come compagnia Magari un'altra compagnia O comunque Ha il benestare Insomma Delle varie colonie Del comando Esatto O se è roba Di contrabbando Di messa Per altri scopi Perché se fosse roba Di contrabbando Signori Sappiate che Noi siamo qua E dobbiamo comunque Imporre La giurisbietà Certo Certo A quello che ci hanno attaccato Quindi Adesso Vabbè Manderò Adesso Io direi che Per oggi Possiamo anche Terminare qua Adesso Ed un attimo Faccio così Mando Due missive Al QG E poi vi Farò Vabbè Comunque Io e il signor Proton Abbiamo anche Mappato Insomma In maniera sommaria L'altra parte Del pianeta Quindi abbiamo anche Informazione A livello Insomma Topologico E grafico Insomma D'accordo Perfetto Niente allora La prossima volta Vediamo un attimo Vediamo un attimo In più Magari potremmo anche Dividerci E finire La torre La seconda torre Di difesa E la Le unità abitative Benissimo Ricevuto Detto questo Signori Dai Buon riposo E niente Ci aggiorniamo Buon riposo Va bene Buon riposo Signori Buon riposo Rapporto del fondatore Dopo aver attivato I droni su Moros La nostra divisione È rientrata sul pianeta Soteria Nelle prossime settimane Andremo a creare Dei collegamenti Interplanetari Per il trasporto Dalle risorse estratte Nel frattempo Abbiamo esplorato L'area intorno Alla base Magellan Dalle rilevazioni fatte Abbiamo inserito Nel GPS Le posizioni Di diversi giacimenti Inoltre abbiamo esplorato Alcune strutture Presenti sul pianeta A tale riguardo Chiedo maggiore info Al quartier generale Per decidere Come procedere Fine della comunicazione Inoltre rilevazioni fatte